Bene, amici, piccoli ebook crescono. Infatti, secondo gli ultimi dati, passin passino, gli ebook anche in Italia si stanno imponendo e rispetto allo 0,9% del mercato, quest'anno hanno raggiunto l'1,8% del mercato e i lettori degli ebook in Italia sono oltre un milione e mezzo. Quindi gli ebook crescono, crescono continuamente e cresce anche Simonelli Editore, il quale continua a produrre ogni giorno nuovi ebook e sono sempre, per carità, ebook originali, non la fotocopia digitale di qualcosa che è già stato pubblicato in libreria. Grazie. 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 Grazie.